Facciamo, presentazione di Ingresini, tiè, guarda che coppia, bellissimi, bellissimi, top, 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 siamo pure in matchy matchy con la moto, matchy matchy, matchy perché siamo a metà rossi come la moto, metà azzurri e bimbe sono belle. L'anno scorso era bella ma quest'anno non ho fatto un altro step, siamo avanti, avanti, Allora, sullo stile siamo avanti, in pista ci siamo avanti, tra l'altro Alex hai cambiato anche un po' il numero, hai fatto un po' di cambi, eh? Sì dai, ci voleva un nuovo Alex, sai, non è andato quello che cambiamo tutto, sai, e dopo vediamo se era il numero anche. Grande, beh, mi piacete già, siete un po' troppo alti però, ma la moto è anche grande, così va bene, ci siamo, ci siamo. Va bene, ragazzi io vi faccio un grande bocca al lupo, grazie, grazie, ci vediamo in Malesia, noi tutti i team social SkySport MotoGPHD, voi ci seguite, noi seguiamo voi.